Seminano distruzione ovunque passino. La loro presenza sconfina sempre più spesso nei centri abitati, ma i danni maggiori li procurano nei campi coltivati. Sono i cinghiali presenti nel parco dell'Altamurgia e non certo perché rappresentano una specie autoctona. È stato introdotto per scopi venatori tra il 2000 e il 2002 con 170 capi appena. Il loro moltiplicarsi è ormai inarrestabile, specialmente se gli enti preposti continuano a non dare segnali di interesse verso un fenomeno che è ormai un problema. Solo all'inizio del mese il nostro, come altri telegiornali, hanno riportato la tragica notizia della morte di un 28enne per un incidente stradale dovuto alla presenza di un grosso cinghiale su una strada a scorrimento veloce nel Foggiano. E sempre più spesso le nostre cronache vedono il cinghiale come protagonista. Questa volta lo spunto ce lo offre il video caricato sui social da Vincenzo Minafra che commenta con amaro stupore l'incontro con decine e decine di cinghiali nel parco dell'Altamurgia all'altezza di Ruvo di Puglia. Ora mi sono fermato nel campo seminativo da dove li ho visti uscire. Un piano per contenere il problema appare sempre più urgente anche perché a crescere costantemente e il costo di tale immobilismo le richieste di danno sono sempre più numerose.